Il rimorchiatore partito d'Ancona affonda a largo di Bari, 5 morti salvo il comandante. E' morto a 73 anni l'ex presidente di ASET Giovanni Mattioli, si è stato un esempio di attaccamento alla vita, ha scritto il figlio, ha aspettato che arrivasse da te per l'ultimo respiro, sabato, i funerali nella chiesa di San Cristoforo a Fano. Facciava cocaina nel parco di Rociano a Fano, arrestato dalla polizia un tunisino di 21 anni, clandestino e incensurato. Grande ottimismo per la stagione turistica e balneare a Fano, siglato un accordo tra bagnini e alberghi consorziati per riservare ai turisti parte degli ombrelloni. Sfalcio dell'erba, ASET a lavoro per la cura della città, eseguiti due tagli in ogni zona, Reginelli puntualizza, non tutte le aree sono di nostra competenza. Corridale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, sono cinque membri dell'equipaggio, due pugliesi, due marchigiani e un tunisino morti nell'incidente che ha coinvolto un rimorchiatore affondato a largo delle coste pugliesi a 50 miglia da Bari in acque internazionali. I componenti dell'equipaggio in totale erano sei, l'unico sopravvissuto è il comandante, un 63enne siciliano che è stato tratto in salvo e ora si trova in ospedale al Policlinico di Bari. Il rimorchiatore, partito da Ancona e diretto in Albania, stava trainando un'altra imbarcazione, ora alla deriva, con 11 persone a bordo. L'allarme è scattato ieri sera intorno alle ore 21. Sul posto per i soccorsi e le ricerche dei dispersi sono arrivati i mezzi militari e civili. La procura ha aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di naufragio e omicidio colposo. E' morto all'età di 73 anni Giovanni Mattioli, ex direttore della BNL di Via Montevecchia Fano, la Banca Nazionale del Lavoro, ed ex presidente di ASET SPA dal 2005 al 2013. Mattioli, che lottava contro un tumore al cervello, stava facendo un percorso di riabilitazione nella RSA di Villa Fassigi, dove aveva cominciato a riprendere alcune funzionalità bloccate da un'emorragia celebrale. Purtroppo, però, negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate e questa mattina è deceduto. Centinaia, anche sui social, i messaggi di cordoglio dei tanti fanesi che lo hanno conosciuto e apprezzato per tutte le sue attività e non solo. Giovanni faceva parte anche del Consiglio dell'Associazione degli Allevatori di Canarini, di cui era appassionato, e da quando era in pensione era entrato a far parte del Consiglio Economico della Parrocchia di San Cristoforo. Hai sempre voluto fare le cose a modo tuo, ha scritto su Facebook suo figlio Giacomo, e anche oggi te ne sei andato senza voler disturbare. Hai aspettato che arrivassi da te, stamattina, per l'ultimo respiro mano nella mano. Sei stato un grande uomo, un grande marito, un grande babbo, un grande direttore, un grande presidente, un grande nonno. Hai messo il cuore in tutto quello che facevi ed eri così bravo con i numeri perché sapevi che dietro ad ognuno di quei numeri c'era una persona. In questi quattro mesi, da quel maledetto 14 gennaio, ha proseguito Giacomo, sei stato un esempio di attaccamento alla vita. Per cinque volte sei andato sotto i ferri in condizioni disperate e per altre cinque volte ti sei ripreso lottando come un leone e insegnandoci cosa vuol dire non mollare. Mattioli, ha dichiarato invece l'attuale presidente di Aset, ha lasciato un segno all'interno della società dove tutti lo ricordano con affetto e ne riconoscono le indubbie capacità professionali dimostrate durante il periodo della sua presidenza. Ha dato molto anche dal punto di vista umano. Negli ultimi 30 anni, ha ricordato l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi, non c'è stata occasione di vita, soprattutto nelle nostre attività politiche e amministrative, dove non abbiamo condiviso i nostri percorsi sempre fianco a fianco. Avevi già sofferto la perdita di tua moglie, ha ricordato Guzzi. Ricordo, appunto, ha proseguito il giorno del mio matrimonio. Lei non poteva venire alla cerimonia perché malata e io e mia moglie, con l'abito bianco, siamo passati a casa vostra a salutarla. Sabato mattina, purtroppo, l'ultimo saluto verrà dato a Giovanni alle ore 9.30 nella chiesa di San Cristoforo a Fano. Ancora cronaca, proseguono serrati i controlli del commissariato di Fano, diretto da Stefano Seretti nei vari parchi della città. Dopo l'arresto dei giorni scorsi avvenuto nel quartiere Flaminio, ieri gli agenti hanno arrestato un tunisino di 21 anni, clandestino e incensurato, che stava spacciando cocaina nel parco di Rosciano. La segnalazione è arrivata da una mamma, che aveva notato il giovane incontrare velocemente diverse persone. Un via e vai che l'ha insospettita e spinta a chiamare la polizia. Una volta giunti sul posto, gli agenti lo hanno fermato e perquisito. Addosso aveva 700 euro in contanti, mentre nello zaino sono stati rinvenuti 23 involucri di cocaina, che avrebbero fruttato dai 70 ai 100 euro ciascuno. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e condannato il 21enne, che ha patteggiato un anno di reclusione e 2.000 euro di multa appena sospesa. Cambiamo argomento e passiamo alla stagione balneare tanto attesa dopo due anni di restrizioni. Partiamo da Fano, dove i bagnini e gli albergatori hanno formalizzato un accordo per riservare ai turisti alcuni ombrelloni delle loro spiagge. Si respira clima di estate sulla costa fanese, complice la prima importante ondata di caldo. Gli stabilimenti balneari sono pronti ad accogliere clienti affezionati ai turisti. Infatti, la prossima stagione dovrebbe rappresentare la vera svolta con una ripartenza del settore. Si è tornati a viaggiare e le misure sanitarie per il contrasto alla pandemia sono state drasticamente ridotte. Per agevolare gli stabilimenti, la regione ha anche concesso la possibilità di posizionare gli ombrelloni nelle aree giochi, negli spazi dedicati ad altri usi e nelle fasce di spiaggia libera, dove è possibile se sarà mantenuto il distanziamento di 10 metri quadrati. L'attenzione è rivolta più che mai anche ai turisti. A Fano, per la prima volta, è stato siglato un accordo tra l'Associazione dei Bagnini e gli alberghi consorziati per riservare gli ombrelloni a chi è in vacanza nella nostra città. C'è stata una stretta di mano, un accordo siglato, un patto di massima accoglienza con i turisti, quindi di piena collaborazione, come del resto c'è stato anche negli altri anni. Però diciamo che quest'anno l'abbiamo ufficializzato all'inizio della stagione e questo ci serve a creare questa ottima sinergia e collaborazione, piena collaborazione con le strutture alberghiere e stabilimenti balneari che sicuramente porterà vantaggio alla città e a tutte le strutture. A sottolineare il lavoro di squadra è stato anche l'assessore Etienne Lucarelli presente alla conferenza stampa che si è tenuta ai bagni Sergio a Sassonia di Fano, lo stabilimento che sin dall'inizio ha puntato sulla collaborazione con gli alberghi per offrire un servizio di accoglienza migliore e ben strutturato. Lorena, nel dettaglio come si concretizza questo accordo, come verranno gestiti i turisti? Guarda, qui a Fano ogni hotel e ogni struttura si organizza come meglio crede. Noi abbiamo una collaborazione forte con l'hotel Continental e noi lasciamo praticamente tutti gli ombrelloni necessari per coprire tutte le loro prenotazioni e ogni tanto ci confrontiamo per sapere a che punto sono loro proprio per far in modo di accogliere veramente tutti i loro clienti. Ma collaboriamo anche con altre strutture che di volta in volta ci chiamano e prenotano in contemporanea sia la camera che l'ombrellone così sono certi che all'arrivo trovano quello che serve. Però per evitare che gli ombrelloni poi rimangano vuoti lasciate un avviso ai turisti stessi. Sì, guarda, sono qualche anno che praticamente metto in bacheca questa comunicazione. Quando andate in vacanza ditecelo, perché così questi ombrelloni non rimangono sfitti e possiamo accogliere altri turisti, accontentare altre persone. Penso che sia una cosa bella. Nel suo stabilimento questa mattina è stato essato il vessillo simbolo della collaborazione. Dal prossimo anno verranno posizionati in tutte le spiagge che aderiscono all'iniziativa. Faremo questo simbolo. Quest'anno l'abbiamo studiato a aprile e non siamo riusciti a stamparlo. Ne abbiamo solo uno. Il primo vessillo che è stato messo è qui ai bagni Sergio. Ci teniamo perché anche il turista sa dove venire e cosa avrà in cambio di questa accoglienza, di questa collaborazione con i bagnini. A proposito di turisti, è annunciato anche una bella novità in vista delle festività del 2 giugno del Ponte. Col Ponte abbiamo preso degli accordi con delle agenzie estere. Con i turisti che vengono dall'estero per imbarcarsi ad Ancona, noi stiamo portando una convenzione per farli fermare uno o due giorni a Fano. Nel frattempo si spera nelle buone condizioni meteo, sia per i prossimi fine settimana, sia per l'intera stagione. Grande collaborazione con i bagnini. Abbiamo fatto una stretta di mano e un brindisi tutti insieme perché ormai è conclamata la cosa qui in spiaggia ai bagni Sergio, l'apertura della stagione. In tutti gli effetti, tempo, mare e naturalmente la simpatia dei fanesi e dei bagnini fanesi. C'è grande ottimismo anche a Pesaro per un'estate all'insegna della ripartenza. Oggi abbiamo fatto il punto con il presidente dell'associazione Albergatori, Paolo Costantini. Un mese di maggio che lascia ben sperare in vista dell'estate. Anche a Pesaro il turismo sta ripartendo e i segnali sono incoraggianti per la prossima stagione ormai alle porte. Prevediamo una stagione all'insegna dell'ottimismo, anche se sarà una stagione breve, concentrata sui mesi di luglio-agosto. Speriamo che le presenze ritornino a quelle che erano nel 2019, prima della pandemia. Per quanto riguarda i prezzi, invece, come ha spiegato il presidente dell'associazione pesarese degli albergatori, a differenza di altri comparti, non si registra un aumento importante nonostante i costi lievitati in tutta Italia di luce, gas e materie prime. I listini sono già definiti, in quanto noi li facciamo uscire già a novembre, ottobre, novembre dell'anno precedente per quanto riguarda i tour operator, quindi grandi aumenti non ci saranno e non ci possono essere. Sicuramente qualcosa sottodata ci potrebbe essere e il problema grosso quest'anno ce l'avremo invece sull'aumento dei costi, che è stato oltre il 30%. D'altra parte si tira un sospiro di sollievo grazie al ritorno alla normalità. C'è voglia di viaggiare e di mettersi alle spalle due anni di pandemia. Una conferma di quello che è il turismo italiano di prossimità. In questo momento si sta anche muovendo qualcosa legato al turismo internazionale, ma parliamo comunque di Germania, Austria, quindi paesi vicini all'Italia e abbiamo questa grande incognita della guerra che comunque rimane un'incognita nei suoi sviluppi. L'altro problema a cui devono far fronte gli albergatori e non solo rimane quello della carenza di personale. Soprattutto per quanto riguarda la sala, che è quello che sta soffrendo un po' di più degli altri settori, ma comunque in generale si nota non molto movimento. Siamo in costante ricerca, anche noi come associazione ci stiamo muovendo per ricercare il personale nei nostri canali e tutti quanti in questo momento siamo alla ricerca di personale. Siamo pronti per ripartire, dopo due anni di fermo speriamo bene, eventi logicamente ne abbiamo bisogno e speriamo in una buona stagione. È iniziata nei migliori di modi, i turisti stanno arrivando, quindi io prevedo una stagione ottimale, quindi non vedo per il momento, grazie a Dio, un calo di turisti. Penso che il turista italiano rimanga qua in Italia, non se ne va all'estero, visto la situazione attuale. Si prevede buona perché i ponti sono belli, la gente si muove, c'è tanta gente, durante la settimana un po' meno, però a fine settimana si lavora abbastanza bene. Turisti li vediamo, adesso li vediamo più che altro sempre a fine settimana comunque, penso di vederli da questo mese in poi. Siamo ottimisti e speriamo di fare una buona stagione. Abbiamo proprio anche la necessità fisica e mentale di trascorrere delle giornate piacevoli, soprattutto qua nella costa dell'Adriatico che offre dei bei panorami e accoglienza direi buonissima. Da dove venite? Noi veniamo da Reggio Emilia. Viaggerete oltre a Pesaro oppure avete intenzione? Una signora che sembra la mia compagna non lo è, credo che viaggerà con suo marito che sta dalla parte di là. Io sono inglese. Lei è inglese, sì. E come mai avete visitato, avete deciso di visitare Pesaro? Il nostro carro, una coppia amica nostra si è sposata, sono di Pesaro ed eccoci qui, abbiamo fatto la cerimonia stamattina. E' accusato di peculato, l'uomo che a Pesaro avrebbe sottratto 40 mila euro alla madre di cui era amministratore di sostegno, una qualifica che permetteva al 54enne di disporre del denaro della madre, compresa la quota versata a favore della donna da parte del Comune di Pesaro a titolo di contributo per il pagamento della retta mensile della casa di riposo in cui soggiornava. L'uomo, nel periodo che va dal 2017 al 2019, si sarebbe appropriato dei 40 mila euro mediante operazioni di prelevamento di contanti e di trasferimento fondi non giustificati. Il giudice, per le indagini preliminari che ha colto l'attesa investigativa della Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo per la successiva confisca delle somme di denaro e di ogni bene mobile e immobile nella disponibilità dell'indagato fino a concorrenza del profitto del reato. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. La stazione navale della Guardia di Finanza di Ancona ieri ha soccorso un'imbarcazione a vela di circa 14 metri, ferma a meno di un miglio dal porto di Senigallia. Il motore era in avaria e i numerosi tentativi di riavviarlo erano stati vani. I due occupanti, una coppia di anziani residenti a Fano, erano diretti alla volta di Ancona per una gita turistica. I finanzieri hanno preso l'imbarcazione a rimorchio e l'hanno indirezzata verso il canale d'ingresso del porto di Senigallia, dove con l'ausilio degli ormeggiatori sono riusciti a mettere in sicurezza sia la barca che i due anziani. I vigili del fuoco invece sono intervenuti nella notte in via Divisione Acqui a Pesaro a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno di un capannone adibito a deposito e manutenzione di monopattini elettrici. I pompieri, che sono intervenuti con due autobotti e con l'ausilio di un'autoscala, sono riusciti a evitare il propagarsi delle fiamme e a salvaguardare la struttura. Non si segnalano persone coinvolte sul posto, anche i carabinieri. E adesso parliamo dello sfalcio dell'erba, perché oggi il presidente di Aset Spa, Paolo Reginelli, ha assicurato che l'azienda continua a lavorare per la cura del verde pubblico nei parchi e nei giardini della città di Fano. Proseguono spediti anche gli interventi in periferia, d'altra parte Reginelli ha puntualizzato che non tutte le aree sono di competenza di Aset. Filippo Pucci Sono partiti dal mese di marzo gli interventi per la cura dell'erba nelle aree della città e nei parchi pubblici di Fano. Questa mattina gli operai a lavoro con dei cespugliatori e tosaerba hanno operato lungo la rocca malatestiana e nei giardini adiacenti. Ad eseguire le operazioni Aset Spa, che gestisce oltre 800 mila metri quadri di verde in tutto il perimetro fanese. È un'estensione che va curata nei minimi termini perché non sono campi aperti ma sono giardini, quindi con tutte le problematicità che ci sono e le caratteristiche peculiari appunto della lavorazione nei giardini. E ci abbiamo sulle 530 aree. Bene, siamo arrivati al millesimo taglio, quindi vuol dire che in tutte le aree di nostra competenza ci siamo passati due volte. Purtroppo quest'anno per ragioni climatiche c'è stata l'esplosione del freddo che c'è stato fino a dieci giorni fa e poi dell'esplosione delle alte temperature che ha portato ad una forestazione quasi dell'ambiente. Di conseguenza la nostra organizzazione è un'organizzazione che comunque pur essendo elastica non ti permette di assumere 40 persone come ci sarebbe bisogno di fare in questo momento per poi licenziarle tra 15 giorni e 20 giorni perché sappiamo benissimo che tra un mese e mezzo questo problema qui non c'è più in quanto le erbe si seccano e quindi il problema non ci sarà più. Per adesso non abbiamo notato criticità, siamo in stretto contatto con i tecnici comunali che qualora ci fosse delle criticità ce lo comunicano. Il presidente Reginelli precisa che anche i cittadini possono fare la loro parte segnalando criticità chiamando il numero del servizio verde pubblico di Aset. Non tutto quello che è verde e tutto quello che è fuori misura praticamente è di competenza dell'Aset perché ci sono le competenze della provincia, ci sono le competenze dell'ANAS quindi magari andando in macchina uno, che ne so, tipo i bordi strada oppure determinati high wall, sparti traffici che sono nella provinciale pensa che erroneamente che siano di Aset ma non sono tutte di Aset. Io vi posso assicurare che noi siamo presenti su tutta la città con un po' più di attenzione su certe aree ma ripeto sono stati fatti mille tagli quindi tutte le aree della nostra competenza sono già state tagliate due volte quindi così continuiamo. È stata una giornata ricca di emozioni quella vissuta oggi a Fanno con il cantautore Bungaro sindaco della passata edizione del Paese dei Balocchi grazie alla collaborazione tra l'associazione preseduta da Michele Brocchini e l'associazione tra le note questa mattina Bungaro ha scritto un inedito con gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola elementare di Bellocchi brano che poi è stato registrato nel pomeriggio e cantato insieme ai piccoli studenti alla BCC Arena di Fanno qui Bungaro insieme al vibrafonista Marco Pacassoni ha eseguito anche alcuni dei suoi successi più significativi nel telegiornale di domani sera manderemo in onda un servizio con altre immagini e con le dichiarazioni dei protagonisti di questa giornata Legambiente Fanno Circolo Idefix ha organizzato una mattinata dedicata alla pulizia lungo il fiume Metauro l'appuntamento è per domenica alle ore 9 alla pinita di Ponte Metauro si inizierà con la raccolta di rifiuti lungo i sentieri e le sponde del fiume il materiale trovato verrà differenziato e pesato invece i sacchi necessari per la raccolta verranno distribuiti direttamente dai volontari seguiranno un picnic alla gluppa e alcune premiazioni per chi troverà i rifiuti più particolari come quello più bizzarro, il più grande o il più inquinante prenderanno parte all'iniziativa diverse associazioni del territorio e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale che torna domani sera alle 20.30 invece domani mattina la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti buona serata a tutti voi a